Bentornati! La Coppa del Mondo si avvicina e quindi torniamo a vedere la maglia di una squadra di calcio che farà i prossimi mondiali. Questa è la prima del Portogallo appunto per la stagione per i mondiali che stanno iniziando, nella versione player, quella indossata dai calciatori. La divisa casalinga della Coppa del Mondo 2022 del Portogallo presenta un disegno diagonale metà e metà in rosso e verde, il primo nella storia del paese. Nike è diventata il produttore di kit del Portogallo nel 1997 in sostituzione dell'Olympic. Il 2022 segna i 25 anni da quando Nike è diventata appunto il produttore di kit di Portogallo. La maglia di casa del Portogallo è prevalentemente rossa, paper red, abbinata al verde in un design diagonale e a loghi giallo-dorati, gold dart. Un look eccezionale e una prima nella storia della squadra. La maglia del Portogallo presenta una grafica diagonale verde sul davanti e sul retro che continua anche sulla manica destra. Bella! Devo dire mi piace più la seconda che ho già recensito e trovate il link qui sopra, però è una bella maglia. I colori sono molto accesi e nella mia classifica questa prende tre stelle. Fatta veramente bene in ogni dettaglio con un tessuto in questa versione player veramente molto ricco, molto molto bello. Qui in alto vedete il costo? Molto basso, su questo non posso aggiungere niente se non appunto constatare l'ovvio, tra virgolette. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che è arrivata anche con degli ottimi tempi di consegna, è arrivata in 19 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Però nel frattempo se il video vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti! Ciao!